Grazie Incidente questa sera, venerdì 21 dicembre, intorno alle 22 a Front, una 64enne di Rivarolo Canavese che stava salendo con la sua Fiat 600 alla casa di riposo per prendere servizio, ha perso il controllo della vettura ed uscita di strada ribaltandosi giù per la scarpata. A lanciare l'allarme è stata la donna che doveva sostituire nel servizio. Non vedendola arrivare, l'ha chiamata e lei le ha detto di essere rimasta incastrata nella vettura capottata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e la croce verde di Torino. Dopo averla liberata delle lamiere, la donna è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale di Ciriè. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non dovrebbe essere in pericolo di Ciriè. Non dovrebbe essere in pericolo. Non dovrebbe essere in pericolo di Ciriè. Non dovrebbe essere in pericolo. Non dovrebbe essere in pericolo.